Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti. Benvenuti in questo nuovo video di Weekend Games. Eccoci qua di nuovo. Oggi tratteremo Modern Warfare 2 delle operazioni speciali. Esatto. Che dire, questo gioco ci abbiamo giocato davvero tanto. Esatto, soprattutto in competitivo. Competitivo sì, c'era anche Beppe, c'era anche Vici. Una volta abbiamo giocato anche con altri vici, eccetera. Davvero molto divertente. Io campiono indiscusso. Solo io gli ho sempre fatto il culo. Non è vero, mai. Lui ci è andato forse un pochino vicino, però poi vincevo sempre io. Pochino vicino, ti ho spodestato. Mai, 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 mai. Facevo il culo, ragazzi. Guardatevi il video che ho fatto contro Vincenze, capirete. Soprattutto il mio occhio da falco. Che purtroppo mi sa che ho perso, perché è da tanto tempo che non ci gioco a Modern Warfare 2. Le scuse. Le scuse, non ne ha mai azzeccata uno. No, non è vero, dai. Lo direi cazzato. Che dire, ora faremo quest'operazione. Deciditi. Facciamo questa, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. Facciamo questa qui. Facciamo questa qui. Oh, Cristo Redentore. Oh, Cristo Redentore. Benissimo. Già, già inizia bene col nome. Sono andate, ragazzi. Questo livello qui sono andate. Io scuro che mi vediate. Che dire? Fatemi la tua posizione per la telecamera. Ok, perfetto. Ah, ok. Andiamo. Oh, Cristo. Che è successo? Devi cagare. No, non leggevo. Devo cagare. Io devo sempre cagare. Ok. Io devo sempre cagare. Che cagore. Ok. Diti, work. Ci sei tu? Eccomi. Qui chiede da sole. Mi sembri più tu, però. Sono di merda. Ok. No, questa la odio. Eh, ma meglio questa che quella di prima. Ok, iniziamo bene. Oh, Cristo Redentore. Cazzo, ho ucciso un amico. Bene. E' cosa sei incazzato come una bestia. Giustamente. Bene. Grande, Jack. Sei partito molto bene. Eh, cominciamo con delle cagate. Aia. Questo è un amico o un amico? Identificati. Se ti spara un amico. Sto cercando di lanciarmi la bomba, maledetto. Ragazzi, io sono quello sopra e Tony quello sotto. Sì. Ma si capisce anche della bravura. Ok, abbiamo un giusto priccio. Perfetto. Ok, va bene. Avete visto il burro di Tony? Quello di Jack. Perfetto. Vabbè, dai, diciamo che dobbiamo prenderci la mano. Eh sì, da un po' che non ci tuttiamo. Ops. Cazzo. Erano due amici. Erano. Erano. Non so tempo fa. Oh, scusi, ho ucciso un civile. Anche tu. No, perché sono a terra? E' vero che mi sei farito, c'è il problema qualsiasi volta. Sono morti dei soldati. Sì. Va bene. Civili inutili. Ok. Va bene, questa volta all'arma bianca. Madonna, mi stava scappando una parolaccia. Oh, mio santo. Ma perché mi sparano pure i civili a me? Come ti sparano? Ma sei tu, ma le mati dal cazzo. Eri tu, merda. Ti ho staccato. E beh, mi sei passato davanti. Che sembra che c'era la musica di Xila. Xila? Non lo so, un pezzo a me ricordo della musica di Xila. No, sono morti degli amici, poi. Madonna, mi viene un bordello, ragazzi. Vuoi abbassare un po'. No, no, no. Era meglio che stavo lì. Ascolta. Ok. Dov'è? Questo porco di merda era lì. Questo porco mi veniva qualcos'altro. Beh. Esatto. Ma la moto si esplode, ma non credo. Guardalo lì, che si nasconde. Dov'è? Tu me metti. Ti piace stare lì nascosto. No, mi ho perduto esattamente la mano, sono una merda. Si è diventato davvero uno schifo, questo porco, non sopporto. Aiuto. No, cazzo, non sei partner. Così qui, partner. No, dove cazzo sei? Qui, ok, sono qui. Come ti culo, con X. Che no, questo porco di soltanto, anche il video. Ok. Come ti curo? Il più peggio delle guerre, come ti cura con X. Poi mi guarderà il tuo il padre, due volte, tre volte. Oddio, che cacchio è successo? Oddio, una bomba. Ma muori, cazzo. Lei è so stronzico, che cazzo era un califo che dovevo avere. Dove sei? Sei terra? Si. Ecco, ti vedo, c'è il mio salvatore. Ma è il mio salvatore. Ti ho visto, bastardo, lì qua. Eccoti qua. Aia. Aia. Che cazzo siete? Ma perché siete qui a fare cosa? Camperoni di merda. Camperoni. Cheater, cheater. Sono dei cheater. C'è il mio salvatore. Si. C'abbiamo fatta. Miglior tempo. Wow. Abbiamo, siamo riusciti anche a superare il tempo che avevo fatto con io con Vinci. Beh, scusami Vinci, ma non è che ci vuole molto. Si, senza pensare per Vinci, però lui mira, se mira lì, è capace che spara di là. Esatto. Usa i fucili precisi e silenziate tutta la sua astuzia per superare i pattugini, minchia, qui bisogna fare silenze. Bene. Facciamo questo oppure facciamo quest'atta qui? Fatti l'aggo attraversa gli invasioni sul ponte per raggiungere il fuoco. Ma no, va bene, evasione. Anche perché mi sa che non l'ho mai fatto. Ah, ok. Andiamo allora. Qui tutto si è in super mega silenziato. Chissà quante cappellate faremo noi con lo sterto qui. Sì, lo fai. Sì, facciamo un po' la merda. Oh, sì. Ok. Per modo di dire, pronti. Sì, infatti. E qui non ci sono nemmeno i corsi che ti dicono dove sono. Cazzo, è vero. Ah, già, ma qui nemici proprio, fai fatica pure a vederli, vero? Eh sì. Perché sono mimetizzati pure loro. Ah. Cazzo. Eccolo, non vi sono. No, c'è pure il tempo. In qualche modo il morto. No, ma non è il tempo discredente, è il tempo a quanto ci mettiamo, forse. Ah, ok. Quello che se ne frega. Non è... Ho ucciso sia un uomo che un cane. Sì, sì, è giusto. Fai anche pericani. Aia, aia, aia. Ci vorranno bene gli animalisti. Dove è il cane? Tocca il mio. Cane di merda, non sei? In piastanza silenziosa, va? Ah, porca puttana. No, no, già che mi lascia in baliera. Eh, mi è incurato di brutto, mi è incurato. No, non credo di avere una vita molto lunga. Eh, non l'avevo detto. L'avevo detto, ragazzi. Astardi. Non l'avevo detto. Ma porca puttana. Andiamo. Ripeto, per modo di dire andiamo. Andiamo a dire dove ci porto gli spari. Che mi è arrivato il tempo, così almeno. Non lo vediamo. Ciao, ok. Eccolo lì le luci. Le luci della ribalta. Morto. Sodimo. Sodimo. Ha detto ottimo. Sodimo. Che cazzo, poi cosa vuol dire sodimo. Fatti. Morto. Occhio cane, 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 cane. Eccolo che arriva. Bella. Comunista. Non puoi sentire. Comunista. Oddio, c'è Silvio qua. Cazzo. No, Silvio. Muola. Oddio mio. E' un cane di merda. Ma porca puttana. Muola rosso. Stando. Eh, arriva, arriva. Cazzo. No, questo cagnaccio di merda. Io faccio Y per chiamarti, ma... Eh, stavo arrivando, ma mi stavo inculando di brutto. Sempre il cane di merda ci fosse. Cazzo. Come sempre. E' morto così, l'ho preso sullo zairo. No, questi comunisti. Oh no, dov'è il cane. Inche se è il cane rognosi. Ma te se è pegane tibetano. Ma infatti, ma lei è il cane di merda. No, parte. Uh... Oh no. Grazie.